Siamo al primo giugno 1926. In Italia Luigi Federzoni è diventato ministro degli interni sostituendo da pochi giorni Benito Mussolini. Rimarrà in carica pochissimo, tre mesi, per essere poi nuovamente sostituito dal futuro duce d'Italia. Facciamo un salto al di là dell'oceano, arriviamo a Los Angeles. Calvin Cooleridge, il trentesimo presidente degli Stati Uniti si trova in mano un compito estremamente gravoso. Deve traghettare gli Stati Uniti fuori dallo spettro della prima guerra mondiale e dentro le perigliose acque della imminente grande crisi economica del 1929. Ma torniamo alle nove e mezza del mattino. È una bella mattinata di sole. Le cartoline dell'epoca ci descrivono il General Hospital come un edificio a metà strada, tra un design futuristico e il brutalismo sovietico di oltre cortina. A vederlo da fuori sembra un posto per ricchi. Ma se guardiamo bene, all'interno ci rendiamo conto che esiste un'intera ala per indigenti. Dopodutto la California del 1926 è in bilico, tra chiudere delle imponenti opere come la Route 66 e l'imminente catastrofe economica che da lì a tre anni investirà tutto lo Stato. In uno stanzone pieno di puerpere avremmo potuto incontrare una bella ragazza dagli occhi diafani, Gladys Pearl Monroe, a 24 anni quando a fronte al suo terzo parto. Dal primo matrimonio con Jack Baker all'età di 14 anni erano nati Robert Jasper e Berenice Inès. La relazione tra i due era comunque destinata a fallire presto, probabilmente per la giovanissima età di Gladys e per l'altrettanta voglia di divertirsi nelle tante feste della contea di Los Angeles. Baker si portò via i figli diventando nel tempo un imprenditore di discreto successo, rifacendosi quindi una vita. Gladys invece incontra un altro uomo, un emigrato norvegese, un pescatore. Edward Mortenson. L'uomo probabilmente muore in un incidente con una moto qualche tempo dopo che la relazione tra i due è finita. Quando viene ricoverata al General Hospital alla voce figli Gladys scrive deceduti ed effettivamente così sarà. Non li vedrà mai più per tutto il corso della sua vita. Ma torniamo al letto di degenza del General Hospital. Guardiamo la foto di una bambina, un po' pafutella. Si fa un po' di difficoltà a capire che siamo una bambina, un po' come per tutti i neonati. Gladys la chiamerà Norma Jean Mortenson, anche se poi la registrerà col cognome del primo marito, Baker. Il nome della bambina assolve in pieno al detto latino nome Omen. Norma, come Norma Talmage, una delle più eleganti e affascinanti vive del cinema muto anni venti. E Jean, come Jean Harlow, sex symbol per eccellenza del cinema americano degli anni trenta, la prima biondo platino della storia. Gladys lavora alla Consolidated Industries Film come montatrice di pellicola e proprio grazie a una colletta delle colleghe di 140 dollari si trova al Charity Award del General Hospital. Alla Consolidated lavora anche un addetto alle vendite. Un bel tipo, un donnaiolo a quanto pare, di quelli che nelle foto anni trenta sembrano proprio degli attori. Sguardo ammaliante, cappello attesa larga e un paio di baffetti amicanti. Charles Stanley Gifford, il vero padre di Norma Jean, che però negherà sempre, probabilmente proprio a causa della promiscuità sessuale di Gladys. A questo punto della nostra anamnesi è interessante estendere l'analisi ai parenti di secondo grado. E qui incontriamo i genitori di Gladys. La nonna materna, Della Monroe Granger, nata Hogan. Della proveniva da una famiglia piccolo borghese del Missouri, che si trasferì nell'Ovest quando era adolescente, per poi seguire il secondo marito in India, per motivi di lavoro. Fervente seguace di una guru pentecostale canadese, una tale Amy Elizabeth Simple McPherson, frequentava regolarmente le sedute di preghiera dell'Angelus Temple. Dopo aver troncato il matrimonio con Granger, fece il ritorno ad Outhorn e andò ad abitare all'altro lato della strada di una famiglia di nome Bollender. Della mostrava una decisa propensione per l'abuso alcolico e furono frequenti i suoi ricoveri in un ospedale psichiatrico. La diagnosi era psicosi, maniaco-depressiva. Morirà nello stesso ospedale dove venne internata anche la figlia, Gladys. Del padre di Della, il signor Monroe, sappiamo che non era secondo alle crisi di follia della moglie. L'unico ricordo che Gladys ci riporta fu che un giorno il signor Monroe le strappò un gattino dalle mani e lo scagliò contro il muro. Morì suicida per impiccamento. Il nonno di Della probabilmente soffriva di un delirio di tipo genealogico. Era convinto di scendere dal quinto presidente degli Stati Uniti, il repubblicano James Monroe. Un modello neuroevolutivo della schizofrenia ci dice che il rischio per un bambino di sviluppare una schizofrenia quando uno dei genitori è schizofrenico si attesta intorno al 10%. Con entrambi i genitori schizofrenici la percentuale sale al 40%. Norma Jean discende da un ceppo genetico dove praticamente tutti i parenti di primo e di secondo grado erano portatori di patologie gravi di tipo psichiatrico. I legami familiari nei primissimi anni di vita vanno a strutturare una matrice relazionale che influenzerà in maniera profonda tutto il successivo corso di vita della persona. Questi modelli operativi interni di attaccamento per poter essere modificati richiedono un grande impiego di forze di tempo e quando i traumatismi sono troppo radicati la modifica può essere estremamente difficoltosa, se non impossibile. Gladys ci prova a fare la madre, ci prova in tutti i modi, ma i suoi fantasmi personali, i suoi demoni sono troppo forti e le condizioni economiche così disagiate che dopo un mese dalla nascita di Norma Jean è costretta a darla in affido. La affida a una coppia di coniugi integralisti, religiosi, i Bolender, i quali accolgono degli trovatelli, a volte anche degli orfani, dietro pagamento di una modesta somma di denaro che possa andare a integrare i loro esigui guadagni. Quindi Norma Jean si trasferisce da questa coppia. È interessante notare che a fronte della casa, dei Bolender, si trova la casa della nonna, Della, di rientro dal viaggio dall'India. Norma Jean rimase con Wayne e Ida Bolender fino all'età di sette anni. Albert Wayne faceva il postino e nel tempo libero si occupava di stampare degli opuscoli, dei volantini con un ciclostilen al retro di casa. Le immagini ci raccontano di un signore decoroso, ben vestito, ordinato, sicuramente non sorridente, ma appartenente a una sorta di medio-borghesia degli anni venti statunitense. Wayne era un padre presente, premuroso, così come era presente la moglie, Ida. Le fotografie ci raccontano di una donna, da un punto di vista estetico, molto dimessa, per alcune caratteristiche potremmo definirla anche triste, ma comunque presente, premuroso. Le fotografie che riprendono Norma Jean a quest'età ci raccontano di una cura costante. Appare sempre ordinata, pulita. In una in particolare indossa un abito a stampa floreale, con una graziosa cuffietta in testa. L'abito l'è stato cucito proprio da Ida. Decisamente una bella manifestazione di affetto, che travalica i 5 dollari la settimana del rapporto economico. Un'altra istantanea ci racconta di una foto di Norma Jean sorridente accanto a un altro bambino. Si tratta di Lester, due mesi più giovane di lei, il suo fratello adottivo. I Bollender si riferiscono ai due bambini come ai gemelli. E quindi Lester fu il primo amico di Norma Jean. Il trattamento di due bambini ci viene raccontato come assolutamente paritario. Per un Natale fu acquistato un triciclo come dono per entrambi. E come bravi fratelli Lester contrae la Pertosse e la contagia Norma Jean. A entrambi vengono regalati anche dei pattini e Norma Jean prende lezioni di piano. Ma c'è un ma in questa storia. Mentre Lester fu legalmente adottato dai Bollender, Gladys non volle mai perdere la potestà genitoriale su Norma, che quindi non poté mai chiamare Ida mamma. Tua mamma è la signora dai capelli rossi, le veniva detto. Un giorno, mentre rincasava da lavoro, Wayne fu seguito da un cagnolino, bianco e nero. Norma Jean ricevete così il suo primo animale da compagnia, Tippy. Le cronache ci raccontano che ogni giorno Tippy accompagnava la piccola Norma a scuola, aspettandola fino a ricreazione per poter giocare nuovamente con lei. Intorno ai sei anni, siamo nel 1933, però succede un fatto traumatico. Il vicino di casa dei Bollender, stanco degli schiamazzi del cane e del fatto che corresse nel suo giardino, una sera imbraccia il fucile e fa fuoco. Uccide Tippy. L'evento chiaramente è straziante per Norma Jean. Ma ancora più straziante è la reazione di Bollender. Né Albert Wayne né Ida dicono nulla o fanno nulla. Chinalo la testa, un po' per paura, un po' perché il loro integralismo li porta a non volere conflitti col prossimo. L'inserimento scolastico di Norma Jean presenta diversi elementi critici. È una bambina molto timida, a volte spaventata, e anche se fu sempre promossa, aveva chiari sintomi di un disturbo specifico dell'apprendimento. Oggi diremmo che fosse dislessica e disortografica, probabilmente anche discalculica, come ci raccontano i suoi diari. La condizione di orfano rappresentava una costante fonte di ansia, che si manifestava spesso con una leggera balbuzia, che le valse soprannome scolastico di M-Girl, ragazza M. A questo periodo risalgono le prime bugie di Norma Jean riguardo alla figura paterna. Alle compagne di classe diceva di essere figlia di Clark Gable, una delle maggiori stelle della cinematografia mondiale, che condivideva con il padre biologico quell'iconico baffetto. Nel frattempo le condizioni psichiatriche di Gladys diventavano sempre più preoccupanti. In pieno periodo di recessione economica raddoppia i turni di lavoro e decide di acquistare una casa da 6.000 dollari, non lontano dagli studi della Columbia Picture dove lavora. Si conclude così la permanenza di Norma Jean a casa dei Bollender e si inaugura un nuovo ciclo di vita contraddistinto dall'addio anche al fratellastro Lester. Gladys porta Norma Jean, che adesso ha 7 anni, a vivere con lei. È la prima volta che madre e figlio convivono e questo ha un significato sconvolgente per la bambina. Significa uno stravolgimento totale della routine, il passaggio da un ambiente cosiddetto mediamente prevedibile, fatto di preghiere di domenica in chiesa, di routine, di gioco, a un ambiente caratterizzato dall'abuso di alcol e fumo, da orari sballati, spesso sconclusionati, dal rumore e dal caos. Ma la recessione economica avanza e Gladys dopo poche settimane perde il lavoro. È costretta ad affittare il piano superiore della casa a una coppia inglese, che lavora con lei negli studi cinematografici, i Kimmel. Per Norma Jean è un nuovo stravolgimento. Gladys non è quasi mai presente a casa e la bambina passa quasi tutti i pomeriggi in uno dei cinematografi sull'Hollywood Boulevard. Ci stavo tutto il giorno, a volte fino a sera tardi, una bambina tutta sola. Mi sedevo nelle prime file, dove lo schermo è enorme e mi piaceva moltissimo. Non mi lasciavo sfuggire nessuna novità. È Norma Jean che parla da uno dei suoi diari. Le condizioni psicologiche di Gladys precipitano rapidamente. Le crisi di ansia e di depressione sono quasi quotidiane, fino a che raggiungono una soglia tale da scatenarsi in una vera e propria crisi psicotica. I coniugi inglesi sono sconvolti. Chiamano gli infermieri dell'ospedale che portano via Gladys legata a una barella. È un vero e proprio TSO ante litteram. Quando Norma Jean torna da scuola, trova ad aspettarla il signore inglese, che con molta calma e molto tatto le dice «tua mamma oggi si è sentita male, l'hanno portata in ospedale». Norma Jean non può saperlo, ma tornerà a vivere con Gladys solo 12 anni dopo. La sua vita a questo punto è nuovamente stravolta. Viene accolta dai coniugi inglesi e rimane nella casa di proprietà della madre per un anno. Ma la crisi economica avanza e i coniugi sono costretti a vendere tutto il mobilio della casa per far fronte alle tasse e alle spese. Alla fine non ce la fanno più. Mollano tutto e tornano in Inghilterra. Norma Jean è di nuovo sola. Viene allora accolta amorevolmente dai vicini di casa, i Giffen, che pensano anche di procedere a una dotazione di tipo legale. Ma Gladys dal letto dell'ospedale psichiatrico non molla. Non vuole dichiarare la dotabilità. Tiene duro. Ricoverata al Norwalk State Hospital viene dichiarata ufficialmente insana di mente e in particolare affetta da schizofrenia paranoide. Gioca allora la carta di Grace McKee, una cara amica. Norma Jean va a stare da lei e da suo marito in un piccolo bungalow nella San Ferdinando Valley. Starà con loro per i successivi otto mesi. Solo che i documenti per l'affido non sono ancora pronti e quindi Grace è costretta a portare Norma Jean nuovamente in orfanotrofio. È una giornata assolutamente traumatica per Norma Jean. Grace e Irving fanno cambiare d'abito la bambina e le dicono che sarebbero usciti a fare una passeggiata per le strade della città in macchina. Ma nel frattempo Irving carica nel bagagliaio della macchina la valigia. Segue un percorso dove nessuno dei due parla. L'auto si ferma davanti alla porta del Los Angeles Orphans Home. La scena che ne segue è tragica. Norma Jean legge la targa affissa sul portone dell'orfanotrofio ed entra in crisi. Lei non è orfana, lei ce l'ha una madre. Ci deve essere un terribile errore. Si rifiuta di entrare, bisogna trascinarla a forza nel salone centrale. Grida con tutto il fiato che è in corpo. Io non sono un orfano. L'orfanotrofio è un bel edificio. Le fotografie dell'epoca ci raccontano che dentro ci sono giocattoli, una radio, un fonografo, un cinema e addirittura un teatro. C'è da mangiare, da dormire. Ciascuno il suo letto e il suo cassettone. E' intorno un terreno grande cinque acri con altalene, parallele e della sabbia. La direttrice parla addirittura di una piscina. I bambini vanno alla scuola pubblica, insieme e tornano insieme. Non portano uniformi. Ma c'è un problema. C'è una governante ogni dieci orfani. Eccolo il problema dell'orfanotrofio. La solitudine. Al di là del terreno dell'orfanotrofio, una casa di produzione aveva i suoi studi di registrazione del suono. E di notte, davanti alla finestra di Norma Jane, si accende e si spegne un'insegna luminosa al neon. L'insegna riporta il logo della casa di produzione. Uno dei report riguardanti Norma Jane, contenuto in un registro dell'orfanotrofio, datato 20 febbraio 1937, recita. A volte sembra ansiosa e annoiata. E poi comincia a balbettare. Norma Jane è anche soggetta a tosse e a frequenti raffreddori. Se non è trattata con molta pazienza, è costantemente rassicurata e preda di attacchi di panico. Mi raccomando per lei una buona famiglia adottiva. 21 mesi. Questo è il periodo che Norma Jane trascorre nuovamente in orfranotrofio. Grace va a trovarla ogni sabato. La saluta, la prende, la porta fuori, la accompagna in negozi di vestiti, a bere una bibita, spesso al cinematografo. Norma Jane adora il cinema. Delle famiglie che l'accolsero dopo questo periodo abbiamo notizie contrastanti. I biografi riportano addirittura sette o otto famiglie, tra le quali quella dei Godard, a cui Grace paga 20 dollari per la custodia. Fino a che, una sera, Doc Godard, il marito dei due, di rientro probabilmente dal lavoro sotto i fumi dell'alcol, molesta Norma Jane. Norma Jane lo dice quasi immediatamente a Grace. E immediatamente Grace decide di togliere la bambina dalla famiglia. La sposta quindi da Ida Martin, suocera di Marvin Monroe, il fratello di Gladys. A quel tempo Ida Martin si prendeva cura anche di altri suoi tre nipoti, Oliver, di otto anni, Ida May, di dieci anni, e Jack, di dodici anni. Quando li conosce, Norma Jane ha undici anni, ed è la prima volta che vede i suoi cugini. I compagni di scuola la ricordano come una bambina mite e permissiva. Eccellevano le discipline sportive, tanto che in seste elementare nel 1938 vinse due medaglie d'oro, una nel salto e una nella corsa. Diversi spezzoni video di Super 8 e diverse foto di questo periodo ce la raccontano come serena, sorridente, molto atletica, anche se nelle recite scolastiche le venivano preferite altre ragazzine, a causa probabilmente di una forma di ansia sociale che poi in fondo non l'abbandonerà mai. I biografi raccontano di questo periodo vari episodi di abusi sessuali, di molestie. Effettivamente non sappiamo se siano più o meno realistiche questi racconti. Sappiamo però che nel corso del tempo Norma Jane spinse molto su questa linea, tentando probabilmente di costruirsi una sorta di auto-mitizzazione della figura di orfanella. A marzo del 1927 Grace McKee riesce finalmente a ottenere l'affido legale e a gennaio del 1940 la affida a sua zia, Anna Lower. Il rapporto tra Norma Jane e Anna Lower è uno dei rapporti più profondi di tutta la sua vita. Non solo trova una persona che si prenda cura di lei, ma trova anche un altro essere umano che letteralmente la adora. La frequentazione tra Norma Jane e Anna Lower andrà avanti da quando si conombero nel 1938 fino alla morte di Anna stessa nel 1948. Gladys nel frattempo aveva tentato la fuga dall'ospedale psichiatrico di Norwalk ed era stata spostata in un'altra struttura probabilmente più adeguata. L'Agneus State Asylum, un istituto specializzato in disturbi mentali vicino a San Francisco. Le condizioni di Gladys sembravano essere stabilizzate, tanto che Grace McKee decide di portare Norma Jane a trovare la madre. È la prima volta che questo accade. Entrambe si cambiano, si vestono bene, prendono il treno e partono. Raggiungono Gladys all'interno dell'ospedale psichiatrico. Gladys è vestita bene, sembra in buona condizione di salute, sembra anche che i farmaci che sta assumendo non siano eccessivi e quindi non riporta gli effetti collaterali da sovradosaggio. Però succede una cosa molto particolare. Grace McKee e Norma Jane si fermano per buona parte della giornata, pranzano anche in compagnia di Gladys, ma Gladys non proferisce una parola. Non dice nulla. Il tempo trascorre e dà tempo, da anni, che non vede la figlia. Al momento del commiato, quando Grace McKee e Norma Jane stanno per lasciare l'edificio e superare la soglia della camera di Gladys, Gladys proferisce un'unica frase alla figlia. Avevi dei piedi così belli. Norma Jane ha 13 anni e non rivedrà la madre per i successivi sei anni. L'inverno del 1939 vede la trasformazione di Norma Jane da bruco a crisalide. L'arrivo del menarca e la manifestazione di tutti i caratteri sessuali secondari stravolge il suo fisico. Frequenta attualmente la Emerson High School. Ottiene anche delle piccole parti in varie commedie studentesche. Quello che succede è che l'arrivo della trasformazione fisica la investe con una potenza esplosiva. Sia uomini che donne per strada si girano a guardarla. Diventa un polo di attrazione. Comincia anche a studiare l'arte del trucco, materia della quale diventerà talmente esperta da poter competere con i truccatori professionisti della Hollywood cinematografica che incontrerà in futuro. In breve tempo inizia a portare abiti sempre più stretti e più aderenti. Non è particolarmente bella, ma c'è qualcosa in lei di altamente seduttivo. Riesce a uscire con il bulletto della scuola e ben presto diventa la ragazza più popolare di tutto l'istituto. In questo periodo Norma Jane riesce finalmente ad avere un'amica della stessa età. Eleanor, chiamata amichevolmente Bebe, figlia di Don Godard, esattamente la persona che l'ha molestata qualche anno prima. Una ragazza brillante e attraente. Avevano la stessa taglia, lo stesso colore dei capelli e si scambiavano volentieri vestiti e trucco. Siamo a giugno del 1941 e termina gli studi del nono anno. I voti di Norma Jane in spagnolo, scienze, educazione e fisica non erano ottimi. Anzi, era quasi stata bocciata nella retorica e nell'addizione, paralizzata dalla paura di esprimersi in pubblico e socialmente bloccata. Nonostante la sua crescente popolarità e la consapevolezza del suo potere di seduzione, dentro di sé conservava una mancanza di fiducia in sé stessa che non riuscirà mai a superare. Il suo insegnante, il signor Stroop, aveva quasi perso la pazienza di fronte alla sua timidezza e alla sua paura patologica di esprimersi in pubblico. Nonostante i suoi incoraggiamenti, non era riuscita a superare le sue difficoltà e aveva iniziato a balbettare. D'altra parte, però, bisogna anche dire che Norma Jane era una persona altamente brillante. Brillante nel giornalismo, in cui mostrava una notevole acutezza mentale e molto umorismo. A settembre del 1941, Norma Jane cambia nuovamente istituto e inizia a frequentare la Van Nuys High School fino al febbraio del 1942. Questo perché la scuola era più vicina alla casa di Godard rispetto alla West Los Angeles University. I suoi voti non erano molto migliori di quelli della Emerson. Inoltre, in questo periodo, inizia a distrarsi molto frequentemente a causa di un ragazzotto, giovane, alto, bruno, con gli occhi azzurri, che portava con orgoglio dei baffi sottili. Si chiamava James Dougherty e la sua famiglia viveva in una casa di fronte al bungalow. Vent'anni, ultimo genito di una famiglia di cinque figli che aveva vissuto momenti difficili durante la crisi del 29. Aveva frequentato anche lui la Van Nuys High School, dove era stato uno studente popolare. Aveva recitato alcune commedie, giocato nella squadra di calcio ed era stato per un po' rappresentante degli studenti. Grazie proprio alle sue capacità nel calcio, Jim aveva ottenuto una borsa di studio per l'università, ma l'aveva rifiutata, per lavorare e provvedere alla sua famiglia, madre, fratelli e sorelle. Attualmente era impiegato nel turno di notte della Lockheed Aircraft a Barbain e guidava una Ford coupé da turismo di un blu scintillante. I Godard dovettero trasferirsi di casa in Odessa Avenue, un altro appartamento sempre di proprietà di Anna Lower. Solo che c'era un problema in questo caso. La nuova casa era molto più lontana dalla scuola di Norma Jean. E quindi cosa si inventa Grace McKee? Poiché la casa di Jim e più vicina alla scuola dove doveva andare Norma Jean, chiede a Jim se potrebbe dargli un passaggio con la Ford coupé blu scintillante per andare e tornare da scuola. A lei e a Bebe. Siamo all'inizio del 1942 e a Doc Godard arriva una comunicazione dall'azienda per la quale lavora. C'è uno spostamento all'orizzonte. Lo trasferiscono nello stabilimento della Adel Precision, nella West Virginia, nel reparto vendite della costa orientale. La famiglia quindi si sarebbe dovuta spostare da lì a poco. Ma qui succede nuovamente un qualcosa che Norma Jean conosce bene. La famiglia si sarebbe dovuta spostare, lei no. Lei sarebbe dovuta rimanere da un'altra parte. Non la portano con loro. È l'ennesimo abbandono. Grace gli dà la notizia una mattina, come un fatto compiuto, aggiungendo che aveva dei piani meravigliosi per lei. A Norma Jean crolla nuovamente il terreno sotto i piedi e di nuovo da sola. I meravigliosi piani di Grace McKee si concretizzano quando chiede a Jim Dogherty di accompagnare Norma Jean al ballo di Natale della Adel Precision Product, la compagnia per la quale lavora Doc Godard. Norma Jean nel frattempo torna a vivere con Anna Lower, stavolta a Soutel in Nebraska Avenue. È costretta nuovamente a cambiare scuola, quindi lascia la Van Nuys High School e inizia a frequentare la University High School, un elegante edificio in stile spagnolo all'angolo tra la Westgate e Texas Avenue. Intanto, con la benedizione di Ethel e Grace, continua la frequentazione con Jim Dogherty. Qualcosa si sta muovendo anche nell'ambiente scolastico? I compagni di classe di questo periodo la descrivono come maleducata, poco rispettosa, molto rumorosa in alcuni casi. Tutti elementi che Norma Jean non ha mai evidenziato nel corso della frequentazione delle scuole precedenti. Nel momento in cui i Godard sono prossimi alla partenza, a Norma Jean vengono prospettate due opzioni. La prima opzione, che lei conosce bene, decisamente traumatica, tornare in orfanotrofio. La seconda opzione, stavolta una novità, legata al fatto che Norma Jean ha quasi 16 anni. Sposare Jim Dogherty. I Godard partono per Attington, in Virginia, a marzo. Venerdì 19 giugno, Norma Jean convola nozze con Jim Dogherty, a casa di Chester Howell, un amico avvocato di Grace McKee. Ai primi del mese, i futuri sposini avevano firmato un contratto per un bungalow di una stanza, al Sherman Oaks, nella San Fernando Valley. La cerimonia iniziò alle 20 e 30 e fu celebrata dal reverendo Benjamin Lingelfelder, della Christian Science Church. Nessun membro della famiglia, non sua madre Gladys, ancora ricoverata, non i Godard, rimasti in Virginia, non la sorellastra Bernice, che non era potuta venire, parteciparono alla cerimonia. Marion Dogherty, il fratello di Jim, era il suo testimone. La damigella d'onore era una compagna della University High, Lorraine Allen. Anna Lower sostituì Gladys, portando Norma Jean fino all'altare. I Bollander vennero, parteciparono al matrimonio, ma fu anche l'ultima volta che Norma Jean li vide. Da lì, per tutto il resto della sua vita, non li vide mai più. Ci fu un modesto ricevimento in un ristorante italiano di Hollywood, il Florentine Gardens. Di tutti gli eventi e le emozioni della giornata, Jean ha conservato questo particolare ricordo. La mia giovane moglie non mi ha lasciato cadere nel braccio per tutto il pomeriggio, come se avesse paura che potessi scomparire. Si chiude così il periodo infantile e adolescenziale di Norma Jean. Possiamo trarre alcuni elementi costanti e comuni nella sua storia di vita. Delle relazioni caratterizzate da forte intensità emotiva e un abbandono costante, con continui cambi di figure adulte di riferimento e continui ricoveri in orfanotrofio, con periodi anche molto prolungati. Una struttura di identità che abbiamo visto presentare di tratti fortemente ansiosi, di insicurezza. La balbuzia si genera da questo, da una profonda sensazione di inadeguatezza della persona nei confronti dell'ambiente sociale. Dall'altro punto di vista, una struttura corporea che, alla soglia dei 14 anni, esplode e assume i caratteri di una femminilità adulta, che non poggia però sulla sicurezza di una cognizione adulta. Un cervello, dal canto suo, molto rapido. Sveglio. Norma Jean ci viene descritta come una bambina molto competente, ma dal punto di vista prettamente scolastico, con un disturbo specifico dell'apprendimento, che quindi ne va a inficciare le performance di tipo scolastico. È una persona in ricerca costante della propria identità e ogni qual volta sembra essere riuscita a mettere un mattone solido sul quale costruire poi la sua struttura di identità, qualcosa o qualcuno distrugge questa base e lei si ritrova al punto di partenza. L'unica via d'uscita che le viene fornita è il matrimonio con Jim Dogherty. E noi qui oggi ci fermiamo. Dalla prossima puntata ripartiremo proprio da qui, dal bruco che si è trasformato in crisalide e a cui spetta il compito di evolvere nuovamente in farfalla.